Se si immagina di recuperare i minorenni affascinati dall'andrangheta o comunque caduti nella rete del crimine, insensolato, offrendo delle istituzioni dello Stato l'immagine strutturale in cui opera l'ufficio Servizi Sociali per i minorenni, allora posso dichiarare senza timore di smentita che è una battaglia persa. E' quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, che si è recata in visita presso l'USM di Reggio Calabria, ricevuto dalla direttrice Giuseppina Gareffa e dal proprio sostituto Stefano Fazello. Tra qualche giorno noi festeggeremo la nascita più importante nella storia dell'umanità. Allora credo che sia dovere per un garante dell'infanzia, ma io credo un dovere per tutta la comunità sociale e civile, badare anche alla rinascita. E non c'è il luogo di rinascita più significativo di un istituto penale minorile, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, dove ci sono ragazzi che stanno pagando il loro prezzo alla giustizia, ma dove ci sono ragazzi carichi di attesa e di speranza che devono essere necessariamente risocializzati. Un giorno torneranno nel mondo ed è bene cominciare a far capire loro che c'è fuori chi li aspetta nel mondo. E' un istituto penale minorile, questo di Catanzaro, permettetemi di dire, vorrei che meglio non ci fosse stato mai bisogno di averlo, ma visto che c'è, diciamo che è un fiore all'occhiello e di tutto questo per la nostra regione, ma un fiore all'occhiello per la giustizia minorile nel nostro paese, grazie al lavoro di chi ogni giorno qui opera, primo fra tutti il direttore Francesco Pellegrino, che ringrazio per questo suo quotidiano stare vicino a questi ragazzi. Mi piacerebbe che arrivasse alla Calabria, dietro questo gesto, il messaggio di come questi luoghi debbano essere considerati luoghi di attesa, luoghi di recupero e non essere marginalizzati nella percezione culturale che noi abbiamo di essi. Quindi sono venuto a fare gli auguri ai ragazzi, ricordando a me stesso l'importanza che do a questo istituto, perché è stata la mia prima visita ufficiale quando nell'aprile scorso mi sono insediato come garante per l'infanzia.